Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Per prima di cominciare, come sempre, volevo ricordarvi di seguirmi su Instagram, mi raccomando. Trovate il link qui sotto in descrizione. Dunque, oggi sono qui per fare la trailer reaction del primissimo trailer del secondo capitolo di IT diretto da Andy Muschietti. Il primo capitolo mi è piaciuto veramente tanto, è stato uno dei film più belli che ho visto nel 2017, anno in cui è uscito. E sono stracurioso di rivedere il Club dei Perdenti in versione adulta in questa seconda parte. Quindi direi di andare a fare la reaction e poi magari qualche commentino. Ok, trailer che dura due minuti e cinquantacinque. Via! E la vecchia di Capitan Marvel. 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 La vecchia di Capitan Marvel. Ha più una clip che un trailer. Madonna! zombies E' una clippa! E' una clippa! Oddio! E' una clippa! E' una clippa! E' una clippa! E' una clippa?! Sì? bellissimo bellissimo 6 settembre dopo l'estate questo secondo capitolo sto trailer non mi ha fatto particolarmente impazzito più che altro perché per tre quarti di trailer è una clip di quello che vedremo nel film però poi la parte con tutte le scene una dopo l'altra molto belle ci hanno visto un paio veramente fighe con tutti i palloncini che scendono da quello che penso sia il sipario di un teatro di un cinema è stato confermato che ci sarà il club dei perdenti sia in versione adulta che è un cast incredibile abbiamo visto la Chastain ci sarà James McAvoy che io adoro come attore ma torneranno anche gli attori che li hanno interpretati da bambini quindi secondo me verranno usati per questi parallelismi come nella scena in cui loro si riflettono e si vedono bambini sinceramente non vedo l'ora secondo me terrà duro e reggerà a pieno i livelli del primo capitolo ho estrema fiducia in Muschietti e non vedo l'ora che esca fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto e noi come sempre come al sito ci vediamo al prossimo video ciao